Weekend di festa in Piazza Mercato ad Asso con la decima festa del cinghiale organizzata dall'Associazione Cacciatori di Asso con Palo della Cuccagna, tiro con l'arco e serate danzanti accompagnati da specialità a base di Selvagina. Venerdì 12 settembre alle ore 19 la cena a base di Selvagina e la serata danzante con il complesso Gina e Pierre. Sabato 13 settembre alle ore 12 il pranzo e alle 19 la cena, sempre a base di Selvagina e la serata danzante con l'orchestra Ieri ed Oggi. Infine domenica 14 settembre alle ore 12 il pranzo, alle 19 la cena a base di Selvagina, alle 10 il tiro con l'arco e alle 18 il palo della Cuccagna. È presente un ampio posteggio gratuito.